Il Tribunale di Palmi ha assolto il consigliere provinciale Rocco Sciarrone con formula piena dall'accusa di voto di scambio e danneggiamento. Il procedimento di imputazione di questi reati è partito nel 2011 dopo un'informativa arrivata in procura riguardante dei lavori di canalizzazione delle acque nel quartiere Ciambra di Gioiotauro, dove vivono molte famiglie di etnia Rom. I legali dell'esponente politico gioiese sono riusciti, mediante un buon impianto difensivo, a dimostrare l'estraneità di Sciarrone sui reati imputati dalla procura e la bontà dell'operato del consigliere provinciale nel caso specifico di quelle opere. Il fatto, pertanto, non costituisce reato, malgrado la procura puntava a cristallizzare il reato di voto di scambio che Sciarrone avrebbe usato, secondo l'accusa, per mantenere gli impegni assunti in campagna elettorale con l'ultimazione delle opere eseguite nel quartiere gioiese Ciambra. I capi di imputazione erano pesanti, ma il consigliere provinciale Rocco Sciarrone ha fatto sapere che il suo stato d'animo è stato sempre sereno, sapendo della sua totale estraneità ai fatti. Un'innocenza che è stata ratificata dal Tribunale di Palmi e che vede Sciarrone a questo punto liberato da queste incombenze giudiziarie è proiettato presumibilmente in campagna elettorale per le amministrative di primavera, che vedranno il consigliere provinciale sicuramente protagonista della partita per la scelta del nuovo sindaco della cittadina pianigiana. A Gioia Tauri, infatti, dopo le dimissioni del sindaco Renato Bellofiore e in vista delle elezioni programmate per la primavera del 2015, il clima si sta surriscaldando ogni giorno di più. Il neassolto consigliere provinciale ancora non si sbilancia su una sua potenziale candidatura a sindaco, rimandando qualsiasi decisione a dopo l'estate. Gli scenari elettorali post-Bellofiore ancora non sono ben definiti, ma c'è da giurare che la posta in gioco è alta e il clima per la conquista della poltrona di primo cittadino di Gioia Tauri sarà bollente e i colpi di scena ovviamente non si faranno attendere. Grazie a tutti.